Ci sono legami che non si spezzano, come quello tra Pierluigi Gilli e la città di Saronno. Sindaco per dieci anni, candidato sconfitto nel 2016, l'ex primo cittadino torna in scena con una squadra inedita che raggruppa forze di centrosinistra e componenti civiche. Le sigle di partito sono quelle di azione Italia Viva e più Europa, mentre la lista trasversale sceglie una denominazione sobria e immediata, con Saronno, e una parola d'ordine che con i tempi che corrono suona piacevolmente ambiziosa, normalità. Mi è stato chiesto per quale motivo sono ritornato ad occuparmi di una campagna elettorale. Questa volta sono stato attratto da una possibilità di carattere politico, di vedere la riunione di alcune forze politiche che richiamano a quel centro al quale io mi sono sempre ispirato e che questa volta mi ha particolarmente convinto. A questa è una giunta, una lista civica prettamente amministrativa e di saronnesi che si vogliono mettere in gioco, quindi messi insieme viene fuori una bella squadra. Gli ultimi dieci anni sono da bocciare, secondo Gilli. La sinistra di Luciano Porro e la lega di Alessandro Fagioli non hanno brillato sentenza. Perciò eccoci qui per dare risposte concrete, senza promettere la luna e cercando di elevare un dibattito politico troppo spesso sacrificato a battute da bar e slogan di pancia con un pacchetto di priorità. La risistemazione di un subquartiere del centro, tutto di proprietà pubblica che fa perno su un palazzo Visconti, la difesa a oltranza del nostro ospedale e poi tanta, tanta ordinaria amministrazione che è quella che serve ai cittadini, i quali vogliono vivere in maniera tranquilla e ordinata ed è la prima cosa. Certamente non seguiamo la pancia dei cittadini, non andiamo ad evocare problemi di sicurezza, ne abbiamo, ma si possono risolvere senza andare ad urlare per acquistare un facile consenso.